buonasera ragazzi sono male e benvenuto sul mio canale youtube allora questo giorno ho deciso di fare un video un po insolito perché mi è successo diciamo un episodio che mi ha fatto un po incavolare nel senso che io da personaggi mille ed educata e seria non vado a dare fastidio da un'altra parte o a persone che lavorano nel mio stesso ambito a livello di esoterismo ed occultismo sulla piattaforma di facebook diciamo quindi oggi voglio parlare dell'esoterismo che c'è invece da un paio di tempo fino ad oggi no da dieci anni c'è a parte che io lo pratico e ne so qualcosa diciamo allora praticamente io ho un gruppo facebook che si chiama ma c'è non solo a proposito se volete iscrivervi con profilo originale e non fake lo potete fare benissimo perché i profili fake nel mio gruppo non entrano e se non hanno diciamo un'immagine sua personale non li faccio non li accetto proprio comunque tralasciando questo allora mi è successo un episodio con una persona che praticamente io ho acquistato un mazzo di tarocchi l'ho contattata perché vendeva sti tarocchi e io li ho comprati no abbiamo parlato sai io mi occupo di magia esoterismo babababa sono campano e e niente praticamente ho detto io se ti fa piacere dico puoi entrare nel mio gruppo dico però dico mi raccomando dico e leggi il regolamento e attenti a quello che che è il regolamento insomma che io ho un regolamento piuttosto rigido perché sono una persona precisa e mi piace la precisione allora oggi praticamente è successa una cosa siccome io ho pubblicato un sogno che ho fatto e niente mi hanno risposto un paio di persone un paio di amici che mi hanno detto mi hanno aiutato a dare un'interpretazione corretta del sogno diciamo no perché io ne capi sono interpretate sogni però avevo un po di dubbi praticamente sta persona che si può che si vedono gli operatori di facebook si credono intelligente non praticamente se uno si mette a disposizione per e farsi vedere non per far vedere quello che fa di quello che si occupa poi passa per scusatemi il termine ve lo dico in siciliano per una testa di minchia cioè per scemo no in poche parole poi la gente se ne approfitta non è che ha il buon senso di dire quella persona mi sta offrendo la possibilità di di andare a casa sua diciamo e io mi devo comportare in maniera educata e civile no e che mettiamo mettiamo cosa voi mi invitaste a casa vostra per un pranzo mi metto i piedi sul tavolo questo vuol dire essere ineducato e non avere rispetto delle persone che ti hanno favorito cioè ti hanno invitato a tavola su a mangiare no poi essendo siciliano praticamente sei assi cose ci tengo in maniera molto 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 seria no perché io ho i valori no mi ritengo una persona sempre educata figuratevi che io sono iscritti in molti gruppi facebook e la maggior parte delle persone non sa neanche io sono un operatore esoterico perché io manco parlo proprio quando si tratta di di essere all'interno degli altri gruppi facebook non per rispetto degli admin e di chi lo gestisce no praticamente io mi faccio solo le fatte mie io quando pubblico pubblico qualcosa solo nel mio gruppo e nella mia pagina facebook e basta e basta mi sono tolto anche il vizio di collaborare con delle persone perché mi hanno pugnalato alle spalle e si stava rovinando il mio gruppo facebook e questo non non è possibile quindi ho detto migliaia di volte che praticamente esigo solo un po di rispetto ed educazione come io lo sono con gli altri no non chiedo chissà che cosa o non sto chiedendo nessun miliardi per chi può pagare le mie per le mie esigenze diciamo così personale no perché ringraziando a dio c'è non ho bisogno di andare girando in altri gruppi o criticare oppure rubare rubare per così dire i clienti contattarli in e scrivergli guarda se vuoi ti faccio un rituale per me queste sono vere e proprie porcate e io non sopporto diciamo queste persone che praticamente usano questa strategia tra virgolette di pubblicizzarsi all'interno degli altri gruppi no e mi è successa un paio di volte quindi ho dovuto eliminare queste bannare queste persone no adesso vi sto chiedendo ragazzi precisamente quelli che sono operatori nel mio gruppo perché ci sono un paio di amici me che anche sono operatori esoterici e io chiedo la gentile cortesia di avere un po di educazione e buon senso e rispetto soprattutto nei miei riguardi come io li porto a loro loro mi devono rispettare perché altrimenti sono costretto a bannare tutti gli operatori esoterici che sono all'interno del mio gruppo anche se sono amici miei e praticamente è rimanere da solo già che lo gestisco da solo cioè praticamente noi vi chiedo non mi portate con le spalle al muro perché altrimenti io devo poi prendere le mie precauzioni perché per colpa vostra io il mio gruppo in basta dei maiali non lo do non le posso non lo posso permettere sta cosa cioè quello che mi dà fastidio a me e gira molto su facebook e questa questa motivazione che gli altri operatori esoterici entrano praticamente si scrivono nei gruppi solo per attirare clienti e far credere di essere più di essere più bravi e di averlo più grosso rispetto ad un altro e a me questo sinceramente mi fa girare i coglioni scusatemi per il termine scusatemi per questo video ma è un video spoco perché io non parlo mai con questi termini anzi cerco sempre di essere sempre educato e rispettoso per gli altri che devono ascoltare questo video ma quando ci vuole ci vuole anzi mi sto limitando a dire un po di parolacce ma adesso sono veramente indignato su questa discussione perché non li sopporto non li sopporto queste cose ragazzi praticamente io a casa mia sono così sono i miei genitori diciamo che l'educazione me l'hanno insegnata in un certo modo a rispettare sempre gli altri però il mio buonismo non può passare per stupidità alla fine perché io non sono stupido io se c'è da da prendere una decisione o da fare a cazzotti non c'è io non ho nessun problema cioè non voglio minacciare nessuno non è una minaccia ma il mio video è solo per chiedere un po di rispetto ed educazione come la porto io me la devono portare anche a me perché altrimenti io devo prendere le mie precauzioni eliminando tutti gli operatori esoterici e mi lascio solamente i miei clienti chi interagisce con me chi partecipa al gruppo e buonanotte grazie e pochi servizi servizi alla fine io non voglio arrivare a questo punto ma non mi portate con le spalle al muro e attenetevi per favore al gruppo al regolamento del gruppo che ci è messo no perché sono quattro cose ma io non chiedo chissà che cosa ma solo solo questo questo modo di essere educati gentili poi perché alla fine da dieci anni che io giro su facebook ne ho viste di cotto e di cure praticamente ti possono succedere tante cose ci sono operatori falsi che ti fanno credere di essere amico tuo ma poi alla fine di quando vedono che tu ne sai di più di loro ti pugnalano le spalle facendoti dei malefici 70 anni tutti di bloccare la tua la tua strada e questo è una cosa schifosa perché fanno questo questo le fanno solo i penditi i penditi sono i collaboratori di giustizia ragazzi e sono la cosa più schifosa del mondo perché uno che ha mangiato nel piatto di una persona non ci può andare a sputare poi ragazzi questa è una cosa veramente vergognosa che succede all'interno di facebook e perché per quel motivo poi ci sono tutti un bordello di gruppi di presunti operatori esoterici che poi si rivelano per quello che sono perché alla fine non sanno fare nulla non sono in grado di operare in esoterismo e locutismo nella maniera seria per come dio comanda e poi durano da natale a santo stefano cioè mese giornata scusatemi per questo video ragazzi se mi chiedo ancora scusa per i vocaboli perché io in questo modo non ci ho mai parlato per chiunque volesse mettere mi piace mi fa piacere se vi fa piacere inoltre potete commentare e mi dite che cosa ne pensate sotto questo video allora vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao